Sono un giocatore fondamentale che ha permesso di dare un senso a questo campionato. Qua può arrivare alla squadra, il suo record è personale in volo, un'annata pettavolosa e l'augurio di Tifosi sarebbe, per noi, sarebbe vero di rivederlo ancora una volta al prossimo e abbiamo abbrato la maglia del cielo, capisco che non sarebbe un augurio per lui. Le problematiche abbiamo dovuto... Però, facciamo idea, se ci comprassi un emirato, uno scenico, si potrebbe anche... È un premio che viene fatta tutte le volte, ad ogni partita, la media di tutti i voti dei tre giornali nazionali, il Corriere dello Sport, il Corriere di Siena, a cui vengono aggiunti in parte i voti fatti dal nostro sito. Quindi è un premio, io devo sempre, un premio d'Apro non alla simpatia, ma veramente al giocatore nell'anno ha fatto la differenza. Grazie. Che vuoi dire che non si pagano, no? Non è vero. Grazie.